Parlo dei libri neri di Jung. Il transito costante dal maschile al femminile si coglie nella metamorfosi di Cannon, nella visione di Jung. Come dire che nessuno è maschio o femmina per sempre, a tempo pieno. Jung nei suoi travestimenti. Nella visione il maschio è affermativo, la femmina spietata. Di Buddha non si esalta il lato Yang, di Salome non il lato Yin. Lei non è sottomessa e chiede, come unico desiderio, che Giovanni Battista sia decapitato. E poi il Buddha nel loto, non Evira, sta meditando, fa Zazen. Jung scrive, devi essere i tuoi pensieri. Perché sei nel mondo dei tuoi pensieri? Io commento, una volta in questa sfera ci si identifica con ciò che vi si trova, idee, pensieri. Così Jung, o tutti noi, una estensione indebita, e il centro diviene il pensiero. Si è spinti a pensare, in seconda battuta, che tutto sia pensiero. Come quel tale, il buon tempone, che diceva, per negare il pensiero, occorre sempre il pensiero, dando per scontato ciò che si doveva dimostrare. Jung scrive, è un sogno infernale, Salome, Elia, Maria, tua madre? Commenta. L'accostamento tra l'anima e Salome, sempre più stretto e sacrale, nonostante la reputazione della danzatrice. Che la Madonna sia madre di Salome, è ciò che Jung si concede nei libri neri, ma solo qui, per non urtare i benpensanti. Poi scrive, la porta può aprirsi solo per chi aspetta lì, povero e incolto. Mio commento. La povertà è dell'umiltà di chi non agisce e accetta il non sapere. La povertà di Enrico IV, che attese udienza, paziente a canossa, tra la neve. La porta come metafora del mentale, che si spalanca solo se vuoto e nudo. La presa di coscienza. Il cavaliere rosso come emblema del demonio, l'eterno avversario interiore. Nei libri neri si insiste sulla sua valenza diabolica, più che inquadrarlo come figura alchemica, l'attrice di Rubedo. Nelle opere visionarie, Jung è quanto mai vicino al demoniaco, talora presentato come la teologia cristiana lo menziona. E poi scrive Ci sono anche ebrei, brave persone, pur non avendo bisogno dei tuoi Vangeli solenni. Credo che tu non capisca bene gli umani. Scrive sempre Jung, stavolta, con la sua voce. Mio commento. Su Jung è l'ebraismo, la porta dell'interpretazione è aperta, disposta a mille chiavi. È vero che l'altro da sé dà degli ebrei qui un giudizio benevolo, ma lo stesso Jung dissente. Quanto di Jung sia nell'interlocutore immaginario è da vedere. Ma è già tanto che nella sua mente si avvicendino pareri contrastanti su una questione tanto delicata.